Si sentono i rumori nello spazio? Ebbene, di sicuro esistono delle interazioni elettromagnetiche molto potenti che possono essere convertite in suoni. È quello che ha fatto un gruppo di ricercatori con i dati raccolti da Cassini durante il suo gran finale, l'ultimo tuffo, nell'atmosfera di Saturno. La sonda ha rilevato una potente interazione delle onde di plasma che si muovono da Saturno verso i suoi anelli e la sua luna in celado. Le osservazioni mostrano per la prima volta che le onde viaggiano sulle linee del campo magnetico che collegano il pianeta direttamente alla luna ghiacciata. Dovete pensare a queste linee come se fossero un circuito elettrico tra due corpi con una gran quantità di energia che scorre avanti e indietro. I suoni sono stati registrati il 2 settembre 2017, due settimane prima del bacio finale con il pianeta. Nei 16 minuti e 28,5 secondi di registrazione, i ricercatori hanno convertito le onde del plasma in un file audio molto simile a un costante fruscio. Grazie a tutti! Grazie.